Bara Bonamano dopo la sconfitta di Bressanone arriviamo ad un'altra partita a Casalinga contro il Brescia forse è una delle sorprese di questo campionato, bisogna cercare di portare a casa la vittoria però non sarà certo facile, soprattutto per l'assenza. Esatto, questa è una partita molto importante, sicuramente l'obiettivo è vincere indipendentemente dalle assenze che abbiamo, che sono molto pesanti perché abbiamo l'assenza di Bartoli, l'assenza di Chiara Bonamano Fanelli sembra sia recuperata però ha sempre quel problema al ginocchio indipendentemente da questo assenze l'obiettivo è quello di vincere perché ci servono questi tre punti per allontanarci sempre di più dalla zona retrocessione il Brescia sta giocando bene, mi sembra che abbia 24 punti sempre di più rispetto a voi Esatto, quindi sicuramente è stata una sorpresa per la Serie A però comunque è una squadra alla nostra portata i sei punti insomma non sono quelli che fanno la differenza per cui ci stiamo allenando bene e cercando di provare in tutti i modi insomma di compensare alle nostre assenze vedremo insomma Mara, sono 15 i punti in classifica della Faglioni Volevo essere la quota salvezza per stare tranquilli Dobbiamo guadagnare almeno altri 9 punti quindi almeno altre tre gare vinte questi sono più o meno i calcoli poi può succedere di tutto, è logico però con altri 9 punti dovremmo essere salve quanto pare il mestrino continua a perdere questo è positivo per noi insomma Come avete caricato la squadra? Insomma sembra essere forse semplice visto il fatto che ci siano tutte queste assenze No, non è semplice però comunque rimaniamo tutte noi non siamo da poco per cui bisogna proprio archiviare le assenze far finta, almeno per quanto mi riguarda far finta che non sia così per cui allenandovi al 100% e non rendendo ancora più pesante le assenze perché se cominciamo a dire manca Enrica, manca Chiara, come facciamo di qua e di là, è finita quindi massimo impegno, 100% agli allenamenti cerchiamo tutti di dare qualcosa in più soprattutto chi magari fino adesso ha giocato un po' meno ha l'occasione di giocare ha l'occasione di dimostrare che può sostituire tranquillamente una compagna che al momento è assente